Il terzo festival delle regioni, la Valle d'Aosta sarà presente a Bari nel mese di ottobre per affrontare una tematica con le altre regioni in merito al digitale e al green, due argomenti che fanno parte del nostro quotidiano. La Valle d'Aosta si pone come base, come regione per come essere un laboratorio a cielo aperto per queste due opportunità già affrontate in passato ma che saranno interessantissime da essere messe a confronto con altre esperienze regionali sulle quali si potranno trasmettere le nostre impressioni e raccogliere anche suggerimenti che arriveranno dall'esterno. Grazie